Il massaggio può essere effettuato da seduti o in piedi. La gamba massaggiata può essere inoltre appoggiata su un piccolo sgabello. Afferrare fascia releaser su entrambi i lati e farlo scorrere sulla pelle, esercitando pressione. La parte posteriore, le parti laterali e anche la parte superiore della coscia possono essere trattate nello stesso modo.